Ciao a tutti! Allora, mi è stato chiesto perché ho scelto Vallefoglia. Beh, sicuramente perché ho sentito stima e fiducia da parte della società sin dall'inizio. Questo mi ha avvicinata tanto. In più vedo un progetto importante, vedo entusiasmo, ho tanta voglia di far bene. Io non vedo l'ora di iniziare e mando un bacio a tutti i tifosi. Buon'estate! Ci vediamo presto!